L'opposizione in consiglio comunale di Terra Nuova Bracciolini critica l'ipotesi fatta emergere dalla maggioranza di costruire una casetta di rimessaggio e deposito nella zona di Paperina, a servizio del comitato dei festeggiamenti del quartiere. I consiglieri Manetti e Nocentini criticano il costo dell'opera che dovrebbe ammontare a circa 30.000 euro, affermando che questi soldi potrebbero essere spesi in altro modo, riqualificando la zona. La nostra critica naturalmente non è rivolta nei confronti dell'attività di un comitato, ma è rivolta alla decisione di mettere 30.000 euro a bilancio per la possibilità di realizzare una casetta di legno da installare qui nel quartiere di Paperina. A nostro giudizio, siccome abbiamo ricevuto anche numerose segnalazioni, le priorità sono altre. Anzitutto è un quartiere che necessita di punti luce, perché alcune zone sono ancora al buio. È un quartiere che necessita anche di interventi di manutenzione per quanto riguarda i marciapiedi o le strade. C'è il problema di una strada che ancora non è stata asfaltata e che viene continuamente presa d'assalto dalle macchine che si dirigono in questa strada proprio come scorciatoia per raggiungere San Giovanni. Ancora la decisione sulla casetta di legno non è stata presa, ma l'opposizione ribadisce il suo no alla costruzione, in attesa di ufficialità o smentita da parte dell'amministrazione comunale. L'amministrazione che a nostro avviso ha fatto una scelta non adeguata, non prioritaria e soprattutto ha sbagliato la comunicazione. Sarebbe stata a mio avviso migliore la scelta invece di magari coinvolgerli direttamente, parlarne. Sarebbe stato meglio, fosse stata ben dichiarata e alla fine anche forse meglio accettata da parte dei cittadini stessi.